Nell'ambito dei progetti ed iniziative rivolte soprattutto ai giovani, una delegazione della divisione Polizia Anticrimine ha tenuto un incontro con gli studenti del Convito Nazionale Canopoleno di Sassari. L'obiettivo dell'iniziativa avviato dalla Polizia di Stato è quello di illustrare ai giovani studenti i metodi per un uso consapevole di Internet e dei vari siti web e insegnare loro come sfruttare le potenzialità comunicative del web e della community online, senza correre i rischi connessi al bullismo e al cyberbullismo, all'adescamento online, alla violenza della privacy altrui e propria, all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. Gli uomini della questura di Sassari si sono confrontati con i giovani studenti fornendo risposte alle pressanti domande avanzate dai ragazzi, circa le situazioni di disagio personale e familiare che possono dare adito, anche in forma sommersa, a episodi di bullismo e cyberbullismo. L'evento ha coinvolto numerosi alunni della quarta e quinta classe della scuola primaria della prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado.